E' iniziato ora Marco è bello casato Ora sono tutti contenti Quando devi finire tutto Ok Ok Ma secondo voi no? Volevamo finire Perché non ingranchisca? E' parecchiano Raga Non update Abbiamo trovato l'acqua Marco ha mangiato un panino e si è arreso Marco quanti panini hai mangiato? Bevi senza vedere quanti Vabbè Vabbè Jack Solo 20 nugget per 4 panini Va bene va bene Iniziano a vedersi Brana mi sembra bello carico C'è la ora di Gran Crispy Il primo Gran Crispy Porca di quella puttana Altro aggiornamento Una situazione particolare Valuta YouTube Ne mancano ancora tanti Loli deve mangiare uno con la tecnica E io ne devo mangiare due assemblati Che ora vi farò vedere Assemblati No no Per mandarlo giù hai questo Un millilitro Un millilitro di birra Vai Guarda quanto cazzo sono flex Tanto musica Ne mancano Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette panini Mancano solamente sette panini La situazione è un po', sì E Jack se ne prende uno Lo vuole Lo vuole scopare per bene Loli Aggiornami Loli Sì 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 Dai Grazie Stiamo Ok Adesso La chiamata Sbrog E Mi sto a cagar Cazzo Qua c'è Se non vengono Di prendere le uova Eh Le troie hanno vinto Regà Hanno vinto Hanno vinto Rimangono ancora Sei cheeseburger Non so se Nel finiranno mai Sì Nel finiranno mai E' un terigato Sì 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 Mi dissocio YouTube, mi dissocio Lucidose, raga, mi dissocio No, bravo, è così, è pirotetico Pocchi, pochi, pochi, pochi Pocchi, pochi, pochi Certamente, la ragazza sucia bassica La sei tutto, maggi, no Saluta a tutti, sono un po' che sono brasiliano La favorezione Grazie a tutti.